Don Franco ma è che? Scusa fa un piacere la mattina è venire alle sette e mezzo alle sette e mezzo e devi prima che è successo? Scusa devi mettere le candele devono ricambiare devi stare attento all'offerta che ogni volta sempre domenica poi i foglietti delle preghiere devi mettere sul banco sennò poi quando dico messo non si capisce noltre vabbè don Franco ma mi sei tranzato dalla porta sbagliata del letto? Mi sono tranzato dalla parte giusta non sono fatti tuoi vabbè ma vai a fare quello che devi fare non che muore stiamo giù ma anche se i crepi ce la dò ma davvero questa preghiera Santa Maria piena di grazia abbia votato dove sa più di te per chi ha perduto la casa e l'amore buongiorno buongiorno che è successo? Sento che stamattina mi sei tranzato alla parte sbagliata del letto ma che so stai fesserino non è vero io sono andato giusto non è così buongiorno 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 don Franco don Franco scusate don Franco no mi chiedevo non è che per caso oggi vi siete alzato dalla parte sbagliata del letto oh buongiorno don Franco buongiorno don Franco mi chiedevo la risposta è no non mi sono alzato dalla parte sbagliata del letto anzi sono di ottimo umore solo che vado di fretta perché c'ho appuntamenti con il cardinale non è che voglio farle perdere tempo don Franco e del letto non mi interessa nulla e dicevo mi chiedevo perché portate ai piedi le scarpe della madre superiore perché in democrazia almeno questo è come crede a ritrovare la letta via prega per noi consapevolezza